Quando abbiamo deciso di fare una puntata di My Generation Safety, la sicurezza come cultura, ci siamo posti il problema del parlare o meno di questo bollino rosso sul vino, questa idea irlandese che è diventata legge, anche se la rivolta dei produttori, la secca notizia che esige senza alcun dubbio dei tempi dilatati perché tutto dovrebbe andare a legge tra tre anni. La risposta è stata che conviene, conviene affrontarlo questo tema, ma bisogna affrontarlo con la persona giusta. Pensiamo di averla trovata ed oggi con grande piacere e anche un poco un onore presentarvi per la prima volta nelle nostre pubblicazioni e quindi intervistare, e lo faremo insieme con l'avvocato Alberto Franchi del Foro di Verona, il dottor Raffaele Boscaini. Dire Boscaini significa una casata che lavora da sempre per una case history come Masi, lui è direttore marketing e coordinamento del gruppo tecnico Masi e noi abbiamo recentemente avuto il piacere di riospitare ancora, parlando del libro del grande Sandro Boscaini. Raffaele è presidente anche di Confindustria Verona ed è una cosa non di poco segno, visto che il tema riguarda comunque il mondo confindustriale, non solo, ma è stato vicepresidente di Confindustria Verona con delega alla internazionalizzazione per un quadriennio che è arrivato fino a 2021. Quindi in qualche modo voi capite che si incardinano nelle sue ruoli e competenze anche queste tematiche che oggi affrontiamo. Con l'avvocato Franchi e con Raffaele Boscaini subito dopo la sigla. E dunque il benvenuto al presidente Boscaini, davvero di grande cuore. Benvenuto. Grazie, salve a tutti, grazie. E anche evidentemente all'avvocato Franchi che come ogni tanto capita fa parte integrante anche della intervista che noi proponiamo oggi al presidente. Il tema l'abbiamo detto, lo sintetizziamo ancora, l'Irlanda deciso, sull'etichetta del vino sarà necessario inserire una dicitura che evidenzierebbe come l'alcol sia pericoloso per la salute. Attenzione, l'alcol non sarà immediato, l'entrata in vigore della norma approvata è prevista tra tre anni, ma intanto qualcosa accade. Io chiederei subito intanto la prima riflessione e quindi il primo commento proprio al presidente Boscaini. Eccoci, beh allora devo dire è una situazione che crea parecchio allarme, nel senso più ampio del termine. È riferita, è vero, alle bevande alcoliche, tuttavia è allarmante perché crea un pericolosissimo precedente per potenzialmente qualsiasi sostanza alimentare. Perché? Perché questo tipo di procurato allarme riferisce a delle situazioni che in realtà hanno a che fare con l'abuso, non con l'uso. Sappiamo che qualsiasi sostanza alimentare consumata in quantità corrette, in quantità moderate, ma neanche moderate, in quantità equilibrate, è positiva per il nostro organismo, per la nostra energia, per il nostro benessere, anche un benessere quasi dello spirito, non solamente fisico. Mentre invece l'abuso di qualsiasi sostanza, anche dell'acqua, è assolutamente dannoso. Quindi andare a indicare un generico fa male alla tua salute su un alimento come il vino, senza specificare una relazione con la sua quantità consumata, è estremamente pericoloso, oltre che non corretto. Avvocato, io da questo commento iniziale del Presidente Boscaini ho recuperato tutta un ventaglio di tematiche pertinentissime e congrue. Non dimentichi la parola del procurato allarme, non dimentichiamo la parola alimento che il Presidente ha riferito appunto al vino e del tema abuso, uso e abuso come in tutte le cose anche dell'acqua, giustamente. Chiariamo, i produttori che vorranno esportare in Irlanda dovranno scrivere a chiare lettere che il vino può causare il cancro. E che cosa significherebbe, ce l'ha detto il Presidente Boscaini adesso, può essere anche procurato allarme. Ma Presidente, per la nostra filiera Viti Vinicola, che cosa significherebbe? Significa appunto un andare a rinnegare, in un certo senso comunque andare contro a certi valori che normalmente la nostra cultura europea italiana, o nel caso nostro veneta, che attengono appunto a un corretto utilizzo di questo alimento. Io ricordo ancora, io non sono più così giovane, ma ricordo quando ero bambino, quando il vino era considerato veramente parte della nostra alimentazione in termini di energia, quando se ne consumavano 130 litri di pro capite. Ma se andiamo a vedere i dati ricostruiti, ovviamente storici, parliamo anche di epoche, non so, rendersi al Medioevo, dove si poteva parlare anche di oltre 200 litri di pro capite. E ricordiamoci che nei pro capite ci sono anche le donne, gli anziani e i bambini, che forse non bevono, ecco. Allora sarà stato un vino diverso, sarà stato più leggero, ma se fosse così dannoso il vino, allora saremmo sostanzialmente estinti. Certo. Avvocato, posso farle una prima domanda? La provoco su questo tema. La Commissione europea ha dato il via libera per silenzio assenso, nonostante le critiche di 13 Stati, tra cui per fortuna anche l'Italia. Ecco, come lo si può giudicare un silenzio di questo tipo? Io credo che in questo momento la Commissione sia in assoluta difficoltà e non sappia davvero, direttore, che cosa fare. Noi abbiamo al momento per certo la circostanza che la settimana scorsa il Ministro dell'Agricoltura Rolobrigida e il Ministro degli Esteri italiani hanno inviato una comunicazione al Commissario UE per il mercato interno, i servizi, mi pare Breton si chiami, pronto a difendere i propri prodotti. Però c'è una richiesta di sottoscrizione con vari paesi europei, ma senza una decisione della Commissione europea, direttore, ben poco si può fare. Cioè, allo Stato credo che siamo veramente nella fase in cui ci dice il Presidente di fase di assoluto allarmismo senza nessuna certezza sul punto, dal punto di vista giuridico, anche e soprattutto dal punto di vista giuridico. Allora, hai detto bene, Avvocato, ricordo che tra i sostenitori della linea dura irlandese, in Italia ci sono alcuni personaggi che simbolicamente ormai si sono elevati a pilastri, no? Perché non dirlo, Antonella Viola, biologa e docente a Padova, si è schiarata apertamente. Ma apertamente, Presidente Boschaini, si sono schiarati invece, contrari a questa decisione, degli esimi scienziati. Noi abbiamo fatto, ci siamo permessi di fare una serie di interviste, ma quando parlo di esimi scienziati parlo proprio del top, da calabrese in avanti, importanti, anche a livello internazionale. E tutti sono rimasti sconcertati di fronte a questa decisione irlandese che poi farà presto ad allargarsi all'Europa. Ecco, le chiedo, voi come vi state attrezzando al riguardo? Allora, prima di rispondere esattamente a questa domanda, che trovo assolutamente interessante, vorrei fare un ulteriore commento rispetto alla norma stessa, ossia ad andare a indicare questo tipo di allarme, appunto, sull'etichetta. Allora, già l'Unione Europea ha definito delle modalità per indicare in etichetta non solo del vino, ma anche di tanti alimenti, e già elegge in tante situazioni, circa gli ingredienti e quanto c'è dentro a ogni tipo di cibo, ogni tipo di sostanza alimentare. E questo, devo dire, può essere una cosa assolutamente intelligente e, secondo il mio parere, questo tipo di indicazione di tutti gli ingredienti va a presupporre che il nostro consumatore ha il conoscente sufficiente per poter definire se stesso cos'è che fa bene o fa male alla sua salute. Quindi delle due l'una o lo consideriamo il nostro consumatore assolutamente capace di intendere e volere e quindi capire che i grassi in quella percentuale gli fanno bene o male, così, e scegliere lui, oppure, diciamo, è proprio un ebete, non capisce niente, bisogna dire che gli fa male o che gli fa bene. Questo, secondo me, è veramente una cosa da cui bisogna decidere cosa fare. E su questo, secondo me, appunto, l'Europa dovrebbe perlomeno pronunciarsi. Sì, anche perché va detto che il consumo moderato di vino è da una vita che lo diciamo, no? Mi ricordo di aver fatto trasmissioni vent'anni fa quando giravo il Veneto con mondo agricolo ma in più si aggiunge adesso anche la scoperta scientificamente provata la letteratura lo dice di effetti benefici del calice di vino perché non dire anche questo, allora? Assolutamente, appunto, come tutte le cose io credo che nell'equilibrio si trovi la soluzione. Dire che il vino fa solo bene è altrettanto sbagliato, non è assolutamente corretto, ma dire che fa solo male, appunto, non va bene. Io penso che come tutte le cose, ma veramente tutte le cose, non solo nel cibo, ma anche nella politica e quant'altro, l'equilibrio sia sempre da raccomandare e anche l'equilibrio sui toni. Quindi vogliamo mettere un allarme sull'etichetta per chi effettivamente non ha coscienza che l'alcol in abuso può far male. Mettiamolo scritto bene, con l'abuso dell'alcol può far male. Allora, Presidente, le rivolgo la stessa domanda di prima, ha dato risposta alla prima parte, la imprenditoria variegata, sfaccettata, ha ben chiari i prevedibili rischi, gli enormi danni economici al comparto, è inutile nascondersi dietro un dito. Che come pensate di agire? Siete pronti a che tipo di battaglia? Beh, allora, ci sono ovviamente le associazioni di categoria, in primis Federvini e Unione Italiana Vini, che si stanno occupando della faccenda sui tavoli appunto sia italiani che europei. D'altra parte so che sono stati anche chiamati in causa altri paesi produttori, non solo europei, ma anche di tutto il mondo, per poter attivare delle campagne o comunque delle azioni che possano limitare o addirittura scongiurare questa nefasta decisione dell'Irlanda. L'altro tema è quello del, diciamo, poter andare a prendere le misure di quello che può essere il danno. Sicuramente bene non farà alla nostra industria. D'altra parte mi chiedo, appunto, con tutte queste informazioni che troviamo in etichetta dappertutto, dove il consumatore si vada a fermare. Voglio dire, prima di tutto, nel caso dell'Irlanda e dei suoi governanti, non si illudano che questo risolve i problemi di abuso di alcol nel loro paese. Chi abusa di alcol non gliel'interessa niente né di etichetta né di niente, niente. Chiunque sa che la droga fa male eppure le droghe esistono. Così come tantissime altre olibosità. Chiunque sa che mangiare troppi grassi animali esagerando fa male eppure c'è la gente che muore col colesterolo a 500. Eccoci, quindi non è l'indicazione che varierà i comportamenti delle persone. Il tema è quello appunto di fare campagne più che altro per aiutare i comportamenti positivi. E questo, ripeto, come ho detto all'inizio, non vale per di qui, non vale per tutto. Lei ha citato un altro sostantivo, mi trovo bene a parlare del Presidente Boschini, perché mi trovo bene per tutto. Ha parlato di comunicazione, è fondamentale che in questo momento sappiate agire con questi strumenti miratamente. Anche perché, Presidente, qua non si tratta di rischi per il prosecco, mi permetto di dire. Poco vale precisare che l'Irlanda vale solo lo 0,8% del totale dell'export delle bollicine trevigiane. Qua c'è un comparto intero, ma oserei dire c'è una cultura. E con quel made in Italy che proprio in questi giorni sta trovando anche ampi consensi, il PNRR lo porta anche avanti con convinzione. Stiamo attenti a salvaguardarlo in tutti i sensi. Avvocato Alberto Franchi, le darei la parola per qualche domanda o qualche riflessione insieme col Presidente Boschini. Sì, dicevo Presidente, lei ritiene che, oppure ne pongo l'andare in maniera diversa, per quanto di sua conoscenza, i ricorsi a livello europeo sono già in atto, Presidente? Ci sono dei movimenti a livello europeo, penso che il Federvini e l'Unione dei Vini stiano lavorando insieme, insieme anche con associazioni degli Stati Uniti e del Cile, se non ricordo male, per poter richiamare una sorta di infrazione rispetto alla Commissione Europea, rispetto a questa iniziativa dell'Irlanda che però non rimane e creerebbe una situazione di conflittualità rispetto, ma questo magari lo dice meglio lei, i termini legali, rispetto alla comunicazione appunto sulle etichette che possono indurre il consumatore in confusione e comuno i rituali rispetto alle normative europee. Senta, Presidente, lei ha detto correttamente, condivido appieno il suo pensiero, nel senso che l'etichetta certamente non dissuaderà coloro i quali vogliono abusare del vino. Io le dico che sono stati presentati i reclami ufficiali alla Commissione Europea perché apre una procedura di infrazione contro l'Irlanda. So anche che i prossimi passi formali prevedono notifica da parte dell'Irlanda all'Organizzazione Mondiale del Commercio perché il nuovo sistema di etichettatura potrebbe essere considerato un ostacolo al commercio internazionale. Lei mi ha già risposto di fatto dicendo che le nostre associazioni di tagliaia si stanno attivando e quindi le chiederei il Ministero delle Imprese e del Made in Italy che va tanto di moda oggi, Presidente. Sa che cosa sta facendo? Allora, attualmente ci sono anche dal punto di vista anche dell'Icce stesso ci sono, si stanno interessando ma tutto si muove in maniera e devo dire, grazie a Dio molto concertata appunto con il, appunto, Federvini e Unione Italiana e Vini che ovviamente hanno in mano il pallino della situazione. Federa Alimentare stessa fa da trade union per poter portare avanti questa chiamiamola senza mezzi termini battaglia. Bene, per quanto di sua conoscenza, Presidente io so che il prossimo appuntamento sarà una riunione del Comitato Barriere Tecnica al Commercio del 21 giugno. La Confindustria, diciamo, Italia la Federfarma ha già un piano di battaglia sul punto? Se ne sta ancora discutendo e appunto in preparazione proprio a questo importante appuntamento sia come Federa Alimentare che come Federvini non ho appunto al momento informazioni più dettagliate a riguardo ma è un terreno, come si diceva prima abbastanza scivoloso meno insegna lei, avvocato, che tante volte per quanto sia abbastanza immediata e intuitiva una strada non è detto che sia quella corretta per arrivare allo scopo. A volte bisogna aggirare l'ostacolo e prendere di sorpresa chiamiamo il nemico, no? Quindi sono anche qua una questione di strategie non solamente in punta di diritto che a volte ci si va a bloccare in vicoli ciechi. Allora, a questo punto l'ultima domanda dopo di che ringraziamo il Presidente Boschaini è questa. Prevedete, Presidente, comunque una turbativa del mercato? L'avete orecchiato? Lei vive la sua azienda nel modo pieno perché è direttore marketing. Ecco, che riflessi avete di quello che vi sta accadendo attorno, che sta accadendo per il vino italiano? Ma io sono di natura una persona ottimista e un po' come dicevo prima io credo che questo tipo di allarme mi ripeto su questo termine sia sicuramente un fastidio non credo che possa essere diciamo molto molto preoccupante dal punto di vista dei numeri e quindi delle nostre esportazioni. La cosa che mi preoccupa di più è invece questo creare questo importante precedente che ancora una volta non va a considerare che il problema non è la sostanza ma sono i comportamenti degli uomani. Dei singoli che condividono. Dei singoli, esattamente. E quello appunto non si risolve il problema e io mi vende da sorridere anche quando penso che è stato creato in tutto un altro campo il reato di omicidio stradale non diminuiscono gli incidenti perché ti mettono in galera ma l'hai già fatto l'incidente. Bravo non possiamo che condividere Avvocato io la ringrazio come sempre è stata bellissima e preziosa la sua partecipazione ma soprattutto ringraziamo il dottor Raffaele Boscaini che ricordiamo essere direttore Marchini e coordinatore del gruppo Masi e presidente di Confindustria a Verona magari ci potremmo trovare in questa stessa pubblicazione non parlando di altre tematiche che riguardano il mondo confindustriale ce ne sono anche lì Presidente prima parlando della politica gli è sfuggito quel sostantivo politica si è augurato che anche là i toni siano equilibrati ecco abbiamo tutti magari fosse così Presidente la ringraziamo molto è stato molto costese nei nostri confronti avesse bisogno della nostra piattaforma noi siamo a disposizione e lo ricordo molto gentile grazie mille arrivederci arrivederci avvocato grazie 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 grazie